Come ogni anno, l'anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è l'occasione per fare il punto, il bilancio di un anno di attività. Nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 30% degli arresti effettuati dalla Polizia, sia pure in mancanza di un auspicato e necessario adeguamento degli organici. Capillari inefficaci i servizi di prevenzione e contrasto nel territorio da parte degli operatori di Polizia della Questura, con l'arresto di 196 persone e la denuncia di altre 856 segnalati come assuntori di stupefacenti, 112 soggetti sequestrati complessivamente oltre 40 kg di sostanze stupefacenti di vario tipo. Dalla Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica sono state sottoposte a rilievi fotodattiloscopici 2.640 persone, eseguiti 277 sopralluoghi relativi ad eventi delittuosi, 156 narcotest effettuati, identificati 11 autori di reati grazie al rilevamento e alla comparazione delle impronte digitali. La divisione Polizia Anticrimine ha sottoposto all'avviso gale del questore 50 pregiudicati, 145 le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio, emesse 18 provvedimenti di ammonimento per comportamenti di stalking, alla luce anche degli ultimi riferimenti di legge che hanno contribuito a un incisivo e immediato contrasto di questo tipo di reato. Sette i provvedimenti di DASPO che sono stati irrogati nell'ambito di manifestazioni sportive. Particolarmente impegnativa all'attività dell'ufficio immigrazione che ha rilasciato 7.882 permessi di soggiorno, è trattato 1.165 istanze di cittadinanza italiane, 600 le pratiche di riconoscimento dello status di rifugiato, 56 sono state le espulsioni. Complessivamente sono giunti al 113 22.302 chiamate e sono stati effettuati 3.987 interventi. La Polizia Postale ha contribuito al mantenimento della sicurezza pubblica scoprendo gli autori di 45 reati denunciati presso i loro uffici e monitorando con professionalità il mondo di internet pieno di insidie, soprattutto per i giovani. La Polizia Stradale si è distinta per ingenti quantitativi di droga sequestrati, in particolare marijuana, 25 kg, 5 di hashish, 3 di cocaina, oltre a 70 kg di tabacchi esteri. 59 le persone arrestate e denunciate, altre 134. 60 le persone arrestate e denunciate, anche per i giovani.